Post Fata Ressurgo, il sesto appuntamento della settimana del contemporaneo. Una mostra al MIC sulla rinascita, seguendo il mito della Fenice e la storia stessa del museo, distrutto nella seconda guerra mondiale. Opera di quattro artisti di origini italiane e nordafricane, in esposizione fino al 3 novembre. Le opere dei quattro artisti selezionati sono tutte opere che dialogano appunto con il concetto di rinascita. È stata una decisione voluta da noi curatrici per rendere omaggio alla storica figura di Gaetano Ballardini, il fondatore del museo. Il quale in un tacquino privato annota all'indomani del bombardamento e della ricostruzione del museo post Fata Ressurgo. Abbiamo preso questo motto come un augurio di rinascita e di ricrescita. Le quattro opere che sono presenti in questo percorso di mostra sono quattro opere che dialogano tutte con il concetto di rinascita e ripartenza dopo la distruzione, che si manifesta in diverse forme in ognuno dei quattro artisti. Quattro artisti provenienti da un po' tutto il mondo, come mai avete scelto proprio questi quattro? Beh, ci sembrava interessante innanzitutto partire dal fatto che tutti e quattro utilizzano la ceramica, ma qui sono invitate con opere non prettamente in ceramica. La loro provenienza è molto diversa e l'abbiamo scelta dunque apposta. Anche la rappresentanza a due donne e due uomini ci sembrava molto importante. Loredana Longo è di origine catanese, quindi italiana. Invece Martina della Valle è fiorentina di origine, però abita a Berlino. Muataz Nasr è egiziano e Kader Attia è invece algerino, metà algerino e metà francese. Le opere sono un po' sparse per tutto il museo, come mai? Esatto, beh innanzitutto volevamo valorizzare le collezioni permanente, la collezione permanente museale e in più sono a stretto dialogo con la stessa. Quindi partiamo, adesso qui alle mie spalle vedete propaganda di Muataz Nasr che è a stretto dialogo, pur essendo un narazzo, con le ceramiche egiziane che sono sulla balaustra. Proseguendo il percorso si snoda fino ad arrivare alla parte più contemporanea, alla parte italiana e europea. L'artista Loredana Longo ha portato qui un suo progetto che è datato 2006 ed è intitolato Explosion, numero 8, e ha collocato questa esplosione di oggetti domestici all'interno dell'ala che è stata bombardata durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Ci è sembrato quindi molto interessante far dialogare l'esplosione di dettagli privati e memorie personali con quella che è la storia con la S maiuscola, cioè la storia del nostro museo. Allo stesso modo Martina della Valle fa un intervento che parte da un archivio personale, l'archivio di suo nonno, che appunto era un ceramista, e utilizza gli spolveri che suo nonno aveva come strumenti di lavoro e li traspone nelle pareti del museo dialogando con la storia della nostra collezione. Caderatia con l'opera To resist is to remain invisible, quindi resistere è restare invisibile, ha stretto dialogo sempre con, sia con Muotaz Nastra, perché comunque la scrittura è vista come atto di rinascita, che con la stessa Martina della Valle, per cui anche lui utilizza invece uno spolvero di gesso chiaro su muro chiaro.